ragazzi ho visto un mega gruppone di moto andare su e c'erano anche delle moto stupende solo che mi sono dovuto fermare a mettere la telecamera se c'è il gruppone io una registratina la vorrei dare vediamo un po' se riesco a raggiungerli, abbiamo andato almeno 30-40 secondi, tempo di togliermi i guanti prendere la telecamera, piopparla sul casco, una cazzata e l'altra bello che oggi ho detto passo di qua così, mi alleno un po' sul tirar fuori culo e ginocchio dal sellino col cazzo, perché se devo andare su forte, devo andare su forte come so fare, non come dovrei fare se no rischio di farmi male dai shishu dai era un bel gruppo, lo voglio, imparo qualcosa magari se gli sto dietro l'ho fatto veramente un po' troppo forte con la curva lì troppi secondi di distacco ci avevano riposto di riprendere o si fermano su a sottocolle dal baretto o si trovano tipo 86 tir davanti oppure non li piglio più eh sì ciao niente niente peccato gente peccato veramente oggi non era in conto di far dei video però per fortuna ho sempre la telecamera dietro per fortuna che è così fatto che comunque devo fermarmi a metterla quando non sono preparato per fare dei video proprio 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 tra l'altro vorrei anche evitare di farmi strappare la multa in faccia sinceramente tra l'altro per la fretta sto guidando veramente forte e veramente male veramente forte veramente col cb andavo qualcosina in meno ma non così tanto in meno quindi ancora veramente forte per me è tutta un'altra roba comunque vabbè madonna quella l'ho fatta a 100 allora si sto guidando veramente forte cioè non l'avevo mai fatta così forte quella curva lì non l'ho fatta un portico un bel Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì.